Ciao ragazzi, eccoci qui per un nuovo video vi mostrerò un'app che praticamente vi servirà per registrare un video di tutto quello che fate sulla schermata del vostro smartphone per pubblicare i vostri video su YouTube per far vedere, per registrarvi cose vostre che servono, è comodissimo io ho provato quest'app non la pubblicizzo vi mostro solo il video di come funziona perché l'ho provata, mi piace e ve la consiglio assolutamente è una delle migliori mi sono trovato molto bene ho fatto vari aggiornamenti si chiama Dio Recorder e ripeto, non mi paga niente la ditta perché comunque non ho contatti con loro mi piace l'app ve la propongo praticamente è quest'app qui dove si vedete in basso a destra c'è il tempo che scorre perché è il video che comunque vi sto girando io adesso sto registrando adesso per farvi vedere sicuramente come la scaricate cioè cosa qui è proprio l'app dove vi fa vedere i video scaricati le varie impostazioni potete scegliere qualità video risoluzione tutto quanto per secondo apprendimento registrare audio posizione video avvertire il colore modalità di registrazione lo potete andare un po' a controllare appena la scaricate perché magari qualche opzione non è di vostro gradimento niente anche se togliete uscite dall'app un cerchietto uscite vi continuerà a registrare nascosto vedete qui un pallino in basso qui a destra arancione vi fa vedere i minuti che sta registrando se ci cliccate sopra lo spostate dove volete se lo tenete premuto se ci cliccate vi dà l'opzione di mettere in pausa il video di stopparlo quindi stoppar la registrazione o le impostazioni della registrazione altrimenti se non c'è questa parte qui non vi visualizza comunque potete scegliere tra le opzioni e le impostazioni dell'app come vi ho mostrato prima scorrete la tendina dall'app verso il passo e vi mostrerà qui il view recorder la stessa cosa che vi fa sul pallino arancione che avete sul desktop potete mettere in pausa il video oppure arrestarlo per stopparlo per finire la registrazione provatelo perché è veramente figo ve lo consiglio assolutamente potete mostrare un po' i vostri amici quello che avete registrato è utilissimo veramente mi raccomando ragazzi continuate a seguirmi se vi piace il video mettete un like iscrivetevi al canale assolutamente se volete aggiornamenti e per i prossimi video ci aggiorniamo ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti